Prende forma l'idea di un policlinico diffuso in Sicilia occidentale, un progetto che va sostenuto e che può avviare un importante percorso di crescita del nostro territorio. Lo dice Giuseppe Arancio, parlamentare regionale del Partito Democratico, a proposito di quanto emerso nel corso di una recente riunione tra diversi sindaci della provincia di Caltanissetta, la locale deputazione regionale e nazionale, il Vescovo di Caltanissetta Mario Russotto e l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, in merito alla possibilità di dar vita a quello che sarebbe il quarto policlinico della Sicilia. È stato proprio l'assessore Razza, aggiunge Arancio, a smentire le voci di un progetto che riguarderebbe solo Enna, confermando invece che si sta lavorando al coinvolgimento dei tre capoluoghi, Caltanissetta, Enna ed Agrigento. La creazione di un policlinico diffuso della Sicilia occidentale darebbe la possibilità di avviare percorsi di formazione, nuove opportunità per utenti e personale sanitario. Per quel che ci riguarda, conclude Arancio, il PD all'Ars sosterrà questo percorso.